oh porca maria dai fammi cosa un pochino ma che sacco di coglioni stronzo ma perché ma cammini vedi perché che viene attaccato qui ma buongiorno non lo fai cazzo sento i urri da sopra che è il levito di coglioni che è questo sarà per lavare i piatti non c'è scritto c'è scritto per lavare solo i bicchieri e le postine veramente sei venuto a fare un cazzo già incazzato che stai a fare uno? lavo le marmette lavo e dopo mi fa una sega ah un programma del giorno direi molto ma molto interessante perché chi è che non lo fa che non lava le marmette che poi sarebbero le stoviglie ma lui le chiamava le marmette perché abbiamo tutta una nostra dialettica qua no? un nostro parlare quindi chi è che dopo non si fa una sega fondamentalmente? tutti c'è anche una canzone che mi è venuta a mente perché sono cantante si è marmetta con seghetta marmetta con seghetta non gli piacciono le canzoni questo è andato di fatto quindi anche se senti cantare una hit si incazza comunque il calendario dell'avvento già ha avuto un bel successo capito? si è piaciuto tantissimo cosa ci riserverà domani? eh? ma va via! adesso siete giri per via va! chi lo saprà? chi lo sa? chi lo sa? chi lo sa? il 2 il 3 il 4 il 5 il 6 capito che vuoi? che mi hai detto? beh che c'ha? che no stronzo mi ha mandato un messaggio e quindi? e quindi lei come con la luce rossa ci lo butta via ma che fastidio ti dà sta luce? eh? che fastidio ti dà? ma andai già nel posto a vedere ma vabbè ma è bellino tiè guarda oh non si va per terra pena luce rossa eh 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 non ho visto mai questo ti avverte che c'è un messaggio non hai capito? ma a me non mi frega niente è nel soleggio ma la luce ti avverte che fastidio ti dà? la catena è bellissima oh me levi o lo sbatto per terra che le compro niente ma che fastidio me le fa sui coglioni ma perché? ma perché? le perché sì